Il Cento Mandello è un concept innovativo che interpreta 100 anni di storia proiettando Moto Guzzi nel suo secondo secolo di vita. Coniugare la storicità di un marchio con un concept innovativo è stata una bella sfida. L'esempio centrale chiaramente è il motore che mantiene l'architettura tipica di Moto Guzzi con il V trasversale e la trasmissione a cardano, però è completamente nuovo, raffreddato a liquido e particolarmente compatto nello sviluppo longitudinale, ragione per cui l'abbiamo battezzato Compact Block. Ci si potrebbe domandare che tipologia di moto possa essere, forse una roadster, magari una moto turistica o perché no un crossover. Noi pensiamo che queste classificazioni ormai appartengano al passato. Il Cento Mandello è semplicemente una moto divertente da guidare tra le curve che a quando serve diventa una compagna di viaggio per macinare chilometri in scioltezza. Divertimento di guida e viaggio potrebbero sembrare due elementi difficilmente conciliabili. In questo caso è venuto in nostro aiuto la tecnologia. Abbiamo infatti sviluppato per la prima volta su una moto di serie il concetto di aerodinamica adattiva che permette di avere una protezione aerodinamica quando serve ma di divertirsi tra le curve quando invece si vuole spingere un po' di più. Parlando di prime volte, questa è la prima Moto Guzzi equipaggiata con Corning ABS e nella versione V100 Mandello S anche con le sospensioni elettroniche semiattive di Hollins, il quickshifter bidirezionale, il sensore di pressione dei pneumatici e la connettività per gli smartphone che permette anche di visualizzare direttamente nel dashboard la navigazione. V100 Mandello si rivolge prima di tutto alla platea di guizzisti che vogliono crescere su una moto di cilindrata superiore. Inoltre per chi oggi guida una moto Rollster offre la stessa dinamicità con più propensione turistica e per chi invece guida una moto turistica aggiunge molta più dinamicità per una guida sportiva. Dopo tanti anni di lavoro devo dire che ogni volta che la vedo sento ancora l'emozione che ho provato la prima volta che abbiamo acceso il motore. La nuova piattaforma del motore Compat Block si presta a diversi utilizzi. Le prime ad arrivare sono V100 Mandello e V100 Mandello S ma restate con noi perché arriveranno altre novità. Grazie a tutti!